Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 28 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Creatività al servizio del fai-da-te. Pacificati dalla giornata libera, che vi permette di restarvene tranquilli a casa, sentite insorgere in voi un'ondata di creatività che potreste applicare sia ai vostri capolavori artistici o a qualche preparazione culinaria, dopo una settimana di mensa aziendale o fast food potete darvi alla pazza gioia senza timore di mettere su pancia. A ispirarvi, complice il trigono lunare, il ricordo e anche i prodotti portati a casa dai vostri viaggi, basta un tocco di esotismo a cambiare il colore della giornata, mettendo in moto la vostra anima che prende il volo verso le regioni della bellezza e dell'armonia. Benessere ritrovato attraverso la natura, ricorrete alla lina verde, specie se a disturbarvi è lo stress e la tensione nervosa vi prende lo stomaco ogni volta che un problema si materializza all'orizzonte. E attualmente, con Saturno in quadratura, ce ne sono parecchi. Un uomo che potrebbe mettervi decisamente in difficoltà perché inaffidabile, senza regole e senza morale, senza giudizio, dissennato, a tratti disonesto e cattivo, egoista. Un uomo vile che si pone sulla vostra strada, freddo e violento. Un amore insoddisfacente, incontri di persone sbagliate. Occasioni pericolose da cui potrebbe essere difficile uscirne indenni. Forte emotività. Nervosismo diffuso. Sarà facile farti perdere la pazienza oggi. Ragionate con mente lucida e aperta sul da farsi in amore, state usando male il vostro tempo e le vostre armi. Se il vostro partner sembra approfittarsene di alcune situazioni, cercate di cambiarle al più presto in modo da modificare l'atteggiamento del vostro partner. Sarà più facile cambiare certe situazioni piuttosto che cambiare il partner. Alcuni oggi dovranno fare particolarmente attenzione al proprio cellulare o al proprio tablet, c'è rischio di smarrimento o di furto. Insomma siate meno distratti. Perché continuate a essere convinte di certe cose in amore? Lasciatevi andare ai dolci pensieri e provate a immaginare qualcosa di diverso su sentimenti, proverete l'ebbrezza della trasgressione. Oggi cercate di cambiare o migliorare il vostro look, cambiate pettinatura, cambiate trucco, migliorate il vostro abbigliamento. Ogni tanto una ventata di rinnovamento vi farà bene negli ultimi tempi non lo avete fatto con la dovuta cura. Disguidi. Proteggiti contro possibili perdite di oggetti o di denaro. Ti inviteranno a una festa alla quale sei indeciso se partecipare o meno. Avete il bisogno di evadere dalla realtà ma state attenti a non deludere le aspettative del partner. Come al solito in amore avete sempre una partenza a razzo, è l'arrivo che appare sempre molto lento. I singli risentiranno dell'influsso di Venere che li aiuta poco, mentre Mercurio, per le coppie, non aiuta affatto la comunicabilità. Oggi qualcuno vi spierà, o per amore o per lavoro, senza che voi ve ne avvediate. Meglio se manterrete un atteggiamento sicuro di voi stessi e soprattutto senza colpi di testa. Uno splendido Plutone mette in primo piano i contatti nuovi quest'oggi, oppure quelli rinnovati con le persone che più vi stanno a cuore. Il nuovo giorno vi vede in ottima forma, ricevendo benefici dal pianeta ricettivo, il signore dell'ascolto, Mercurio ancora nel segno amico e buon vicino del Capricorno. Luna appassionata in leone nel settore relativo agli ideali, soprattutto filosofia e politica e ai viaggi. Se avete tempo libero e amate conoscere una ad una le città più interessanti del bel paese non avrete che l'imbarazzo della scelta, non occorre volare a Parigi o a New York per lustrarsi gli occhi, ogni regione italiana ha chicche imperdibili. Amore ed Eros Lo spirito del conquistador non riguarda solo terre lontane. Anche quelle, certo, ma soprattutto una persona che vi sfogge e sta attizzando la vostra curiosità. Amicizie amorose sempre attive, l'essenziale è non legarsi troppo, se il compagno c'è deve essere mattacchione come voi, altrimenti non resiste. Eros al top per i nati in novembre. Gestite un sentimento d'amore nato e cresciuto da poco con tutta la vostra forza, la voglia di immergervi vigorosamente nel mondo dell'altro. Sappiate, però non essere indiscreti e date spazio anche a chi avete accanto, soprattutto nella possibilità di parola e di comunicazione. Questo in special modo se siete nati nella seconda decade. Lavoro e denaro Neanche a dirlo l'estero chiama, se siete creativi i vostri progetti non hanno confini, meraviglioso lanciarli in Sud America, sia pure dal vostro tablè. Meglio ancora sarebbe se il viaggio ci fosse davvero e allora se i vostri conti consentono perché tergiversare ancora? Intanto a proposito di viaggi cominciate con la settimana bianca o con la partecipazione a uno dei più bi e i carnevali d'Italia, Venezia, Viareggio, Putignano, avrete solo l'imbarazzo della scelta. Quali sono i tipi di lavoro del sagittario? Si lega alla casa nona dell'oroscopo, facendo partire la linea di inizio dall'ascendente. Questo settore corrisponde alla possibilità dell'io di allontanarsi dall'ambiente consueto e portarsi lontano, facendo arrivare in quel territorio la propria esperienza e conoscenza. È il settore di chi porta lontano la sua parola, materialmente e moralmente. I mestieri che si legano a questa casa oroscopica e, al vostro segno zodiacale, conseguentemente, sono tanti. Si passa dalla guida turistica, al gestore di un'agenzia di viaggi, dall'insegnante di scuola superiore e di università, al ricercatore e al filosofo. Benessere. State benone non occorre aggiungere una virgola. Anche in città una semplice corsa al parco o una camminata veloce mettono in moto la circolazione e depurano il fegato, il vostro punto debole. Tentazioni consolatorie a tavola, ma se giurate di praticare un'ora di jogging diventa lecito. Per lei, che voglia di rivedere la vecchia amica trasferitasi lontano, ma con la crisi economica imperante vi accontentate di parlare al telefono o scrivervi lunghe lettere. Più intimo e pure risparmioso. Per lui, quattro zampe affettuosissimi in cerca di padrone, se ancora non avete un amico peloso in casa, accogliete il primo randaggino che decide di adottarvi. Colore delle emozioni, rosso fluo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie. 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 Grazie.